ciao Vito Francavilla ciao buongiorno ben arrivato anche tu nuovo quindi inizi anche tu a collaborare con noi in questi nostri aperitimes è un piacere averti qui perché con te parliamo di Defender for Endpoint o MDE per fortuna uno dei pochi prodotti che non è stato totalmente rivoluzionato con i nomi anche se in verità c'è Windows ATP, Defender ATP eccetera ora ne parleremo grazie per l'invito sono onorato di essere qui con te con voi allora Defender for Endpoint soluzione cross per proteggere Windows, Linux, BackOS, iOS, Android, client, server insomma è una piattaforma che è veramente estesa per fare di tutto e di più con te l'obiettivo di oggi è capire intanto cos'è Defender for Endpoint perché un'azienda poi deve avere un software avanzato rispetto al paradigma passato del Emo o l'antivirus e poi vedere un pochettino quali sono i grandi punti di forza di questa piattaforma che può davvero salvarci in tante dinamiche allora grazie sì parliamo oggi di Defender for Endpoint giusto così mi presento un momento io sono Vito Francavilla sono Senior Customer Engineer Microsoft e da tre anni dipendente mi occupo per Microsoft di tutta la parte di sicurezza diciamo sono il meccanico che mette le mani sulla piattaforma Defender for Endpoint, Defender for Identity e Sentinel e nello specifico mi occupo ahimè di compromissioni quindi di clienti che hanno security breach ma mi piace di più occuparmi di advisory quindi di preparare i nostri clienti e quelli che possono essere gli eventuali attacchi e quindi siamo con me qua oggi per poter capire cosa può fare per voi per noi per i nostri clienti Microsoft Defender for Endpoint Microsoft Defender for Endpoint come si vede da questa slide è formato da varie possibilità tecniche onestamente come vedremo nella sessione dopo col collega anche a seconda della licenza alcune sono già coperte e integrate e si basa comunque sulla forza e sulla potenzialità di essere il prodotto che è installato by design e gratis su 10 milioni di cliente al mondo Windows Home una cosa di questo tipo quindi ha deciso dopo qualche tempo fa non potevamo montarlo per via di antitrust basta andiamo indietro 15 anni fa ci fu bloccato ok io sono 30 anni che faccio questo mestiere e ci fu bloccato per questo motivo dopodiché adesso ce lo ritroviamo in ogni computer casalingo e devo dire che rispetto a tanti altri prodotti anche gratis si comporta in maniera egregia anche io quando comunque devo consigliare qualcosa a un parente un amico Defender è integrato c'è lì e fa egregiamente il suo lavoro come vedremo insieme in questa presentazione per farvi venire voglia di capire che cosa è Defender for Endpoint è formato da diverse situazioni e diverse possibilità di copertura e di situazioni vediamo che cosa può fare per noi Defender for Endpoint allora prima di tutto così lavoro per Microsoft mi piace dire che Defender for Endpoint è comunque leader di mercato in questo momento per quanto riguarda la parte di Endpoint Security io lo dico con situazioni Forrester Gardner che non insomma bantandomi di cose che dicono altri ma anche perché sono impegnato in prima linea quando c'è da difendere un cliente che cosa significa usare Defender for Endpoint leader di mercato tra l'altro nel quadrante di Gardner significa in alto a destra ma molto in alto a destra io mi ricordo una volta un cliente in uno scambio di mail con un altro fornitore con il copio al cliente ha detto ah ma noi usiamo questa soluzione leader di mercato io gli feci la cattura schermo del quadrante di Gardner dicendo ah meno male perché noi distribuiamo Defender che almeno sono lì vicino e Defender è anche più in alto quindi cioè perché alle volte questa cosa sembra oddio è un parolone però è difficile fare il pavone dicendo eh perché io vendo questo prodotto che è in alto a destra come se le tecnologie Microsoft in verità non fossero all'altezza e in verità c'è stato proprio un cambio da questo punto di vista cioè si è fatto un investimento veramente pesante su tanti aspetti poi dei vari prodotti di Microsoft che non sono più considerati ah ce l'hai lì, ah ce l'hai a gratis ma sono diventate proprio piattaforme vere e proprie di critiche per il mondo anche enterprise. Microsoft ha deciso anni fa di fare un investimento importante dal punto di vista security un po' perché diciamocelo non era molto conosciuta dal punto di vista sicurezza fino a 7-8 anni fa quindi sai è gratis, c'è lì come hai detto te giustamente e quindi ha deciso di investire fortemente Microsoft Intelligence Security Graph come motore software sotto di gestione della sicurezza è stato probabilmente l'investimento software tra i più grandi che ha fatto Microsoft recentemente quindi giustamente far capire come hai detto te che cosa vuol dire adesso Defender è importante e io lavoro per Microsoft quindi era facile dire siamo là però se siamo là e lo dicono altri fa piacere ecco ne vado orgoglioso quindi lo faccio presente perché è diverso dire ci stiamo provando ci hanno già riconosciuto come leader seppur alcune situazioni sono tuttavia recenti quindi tornando un pochettino alle nostre slide tornando al prodotto vediamo un pochettino le potenzialità di Defender PowerPoint e cosa può fare per noi allora uno dei grandi vantaggi pronti via è la threat vulnerability management che abbiamo in tempo reale integrata non ecco lasciami dire come un intusion prevention fatta on demand quando serve ma periodicamente in tempo reale scan di quelle che sono le problematiche di sicurezza e vulnerabilità e quindi sappiamo immediatamente dei nostri device dei nostri server dei nostri mobile quelli che possono avere in questo momento qualche tipologia di problema e quindi mostro a questo proposito anche proprio la console abbiamo qualche cosa che pronti via ci dice qual è il livello di disposizione qual è il livello di configurazione qual è il livello di severità nei problemi che stiamo affrontando e quindi con lasciami dire la solita facilità delle console Microsoft abbiamo a disposizione qualche cosa che ci permette di rimediare end to end immediatamente ad alcune vulnerabilità presenti dico alcune cose che ho detto mentre dicevo quindi direttamente anche perché questa parte qua è strettamente legata al controllo della compliance che è legata al condition access quindi questo controllo in real time fa sì che la macchina una volta che è considerata non sicura possa essere staccata da quella che è l'infrastruttura o perlomeno l'accesso delle risorse di rete vedi ad esempio Office 365, Teams, OneDrive quindi per fare in modo che non si creino dei problemi di corruzione banalmente cifratura del dato ossiasi cosa essa sia la parte di vulnerability assessment in tempo reale appunto ci permette proprio di poter isolare la macchina direttamente dalla console piuttosto che vedere quelli che possono essere le problematiche applicare ad esempio gli aggiornamenti mi raccomando ragazzi aggiornate i sistemi purtroppo l'aggiornamento è un problema importante sia sistemi operativi noi troviamo spesso nei security bridge sistemi operativi fuori supporto ma anche semplicemente senza gli aggiornamenti di sistema anche qui sfatiamo un mito l'aggiornamento di sistema che blocca la macchina perché aggiorna la macchina ecco non c'è più una volta forse c'è il tempo di riavvio esatto forse succedeva una volta che magari chissà anni fa ma adesso adesso è importante adesso abbiamo degli zero day adesso abbiamo delle situazioni per cui quando consigliamo un aggiornamento e quando c'è un aggiornamento disponibile applichiamolo è importante quello un po' abbastanza quindi abbiamo la possibilità di poter capire immediatamente quelle che possono essere la postura di sicurezza delle nostre macchine immediatamente pronti via con la threat and business prioritization prioritization vabbè prioritizzazione esatto e dopo pranzo è sempre così grazie appunto poi la parte di vulnerability assessment abbiamo un sistema automatico che ci permette eventualmente analizzando quello che succede di poterlo rimediare e questo è un altro aspetto importante perché che tra l'altro defender può essere impostato anche in full remediation esatto quindi dire ok trovi una vulnerabilità un qualcosa di critico vai subito in modalità di remediation che poi non è che significa chissà cosa significa che se trovo un thread negativo qualcosa di non buono lo blocca non è che deve far saltare in aria la macchina o stacca la macchina quella è una cosa che è fattibile staccare la macchina metterla fuori dalla rete però il concetto di fondo è che ci sono magari thread che posso gestire a mano su certi tipi di macchine ma altri dove ho bisogno di una remediation immediata perché se parte la criticità e io la lascio andare facciamo a capirci una soluzione così è anche bella ma se non gli dico di intervenire e demando tutta l'attività manuale e l'altra volta prima con simone si parlava delle famose famosa una di notte voglio vederti o hai qualcuno che è lì davanti al monitor quindi un soc che h24 è lì e se ne accorge che sta succedendo quello se no il rischio poi è dietro un angolo che tu dici ma io avevo defender però che gli hai fatto fare automazione presente in defender automazione che appunto possiamo portare anche verso il sentinel che questa mattina avete visto con il collega quindi è assolutamente importante e permette di ridurre sia i mal di pancia notturni ma anche proprio quello che poi può accadere di dovermi svegliare per poter controllare vediamo le altre funzionalità all'interno del prodotto un'altra funzionalità che trovo simpatica e carina e che lasciami dire è un po' uno dei punti di forza di questo prodotto è senza dubbio la parte di attack surface reduction diminuire la superficie di attacco che un hacker può apprendere e colpire su una macchina su un device è di fondamentale importanza i clienti che seguo anch'io a diverse notti purtroppo nei vari blocchi hanno questi mal di pancia insomma problematiche legate a sistemi operativi che in qualche modo sono tanti sono diffusi magari non c'è più solo l'on-premises c'è anche un po' in parte in cloud li tengo sotto controllo o li tengo no bene la parte di attack surface reduction ci permette a tutti gli effetti di bloccare determinate situazioni qua nella console ne vedete alcune io posso appunto bloccare che un determinato DLL faccia qualche danno piuttosto che un determinato processo andando comunque a migliorare quello che è l'approccio alla sicurezza della macchina teniamo conto che Defender nasce proprio integrato nel sistema operativo in questo caso e quindi alcune situazioni già di applicazioni firmate non vengono bloccate ecco altri prodotti dovrebbero comunque consentire alcune tipologie di applicazione tenete conto appunto che Defender nasce con il vantaggio di essere parte del sistema operativo e però aggiunge nella parte di diminuzione della superficie di attacco funzionalità molto importanti una di queste è proprio la possibilità di bloccare determinate applicazioni di bloccare l'exploit l'exploit è quell'oggetto per cui l'hacker arriva magari arriva tramite sono di corsa riceviamo 250 email al giorno clicco sulla mail che non dovevo ecco che mi sta scaricando l'applicazione quell'applicazione che magari cosa vuole fare? vuole disattivare il servizio antivirus bene io con la tax or face reduction con la tamper protection che posso qui andare a configurare posso bloccare questa tipologia posso bloccare eventualmente situazioni di rete situazioni di siti web che è con javascript con la tax or face offuscati macro dentro la suite di office chiamate ad applicativi di office tipo invio di chiamate alle dll di outlook per mandare mail che possono essere bloccate direttamente dalla sr sì c'è macro malevole i virus sono evoluti tantissimo adesso macro all'interno dei pdf perché c'è anche tutta la protezione di ad hoc e poi uno dice eh vabbè però io ho bisogno che questo file questo applicativo faccia delle cose faccio l'esclusione io ho la possibilità di fare assolutamente l'esclusione cioè l'asr dovrebbe essere la base da impostare anche solo banalmente penso anche se questo è un può essere pericoloso perché io l'ho provato sulla mia pelle è la disattivazione degli eseguibili non firmati su chiavetta usb che funziona peccato che è pericoloso i token dati dalle camere di commercio sono tutti non firmati e quindi poi ti si pianta la chiavetta però uno dice sì io lo abilito per certi utenti ma lo tengo disattivato per tutti gli altri quindi se qualcuno arriva con la chiavetta usb che può avere un eseguibile malevole viene bloccato perché non è è il metodo con cui un hacker fa quindi ci aspettiamo anche qui prendo il tuo spunto per dire ci aspettiamo che comunque anche gli sviluppatori inizino a sviluppare in maniera più sicura abbiamo messo a disposizione il Microsoft Model Threat Modeling Threat Modeling si chiama di Microsoft per lo sviluppo dove quando uno sviluppatore comincia a capire e a pensare modern e modern vuol dire modern identity modern authentication ecco se entriamo nel modern multifactor authentication magari dovrebbero queste applicazioni mi piace il tuo ottimismo cominciamo anche questi eventi servono proprio per aumentare la cultura dici prima della pensione riusciremo a vederne almeno qualcuno chi può dire però ci proviamo sicuramente quindi l'ASR è assolutamente una parte anche per bloccare ad esempio la parte ransomware certo entra la persona vuole crittare bene io con l'ASR blocco questa situazione che ahimè abbiamo visto fra l'altro chi vi parla si occupa appunto di compromissioni abbiamo visto aumentare tantissimo gli attacchi non lo dico solo io insomma il gruppo Killbit ma anche altri gruppi cosa vogliono fare vogliono comunque entrare nei sistemi fare un movimento laterale criptare il contenuto magari di un server e poi chiedere riscatto certo bloccare questa situazione è importante e aiutare i nostri clienti in questo blocco è nostro complice tu hai nominato il tamper sì è una cosa che secondo me dovrebbe essere anche quella mandatoria spieghiamo velocemente cos'è il tamper la tamper protection permette proprio di poter evitare che addirittura un amministratore di una macchina possa andare a bloccare il servizio antivirus quindi è la possibilità che viene data di proteggere di potersi proteggere in questa parte è possibile abilitarla in diverse modalità e è una delle feature diciamo fortemente anche perché il primo task che fa un russo è la disattivazione la prima cosa che fa è la disattivazione per poter fare poi i danni mettere un exploit e bloccare questa parte quindi la tamper dice no fermo anche se sei amministratore vi assicuro che succede tra l'altro da questo punto di vista un consiglio che mi sento di dare è sempre all'interno della configurazione dell'antivirus nella SR e quant'altro evitate di abilitare la merge delle policy tra quello che viene impostato centralmente e quello che si può fare sulla macchina perché se poi l'antivirus riesce a creare un'eccezione sul percorso dove gira anche senza disabilitare la parte di tamper e poi può eseguire il codice malevolo diventa come dire un po' va un po' a cozzare quindi è sempre meglio blindare il più possibile questo tipo di dinamiche mi permetto di dire noi siamo per la gestione dei dispositivi quindi che vuol dire mettere la parte di dominio se la macchina è in act directory piuttosto che usare in tune e in point manager che avete anche visto oggi quindi io secondo me noi siamo per la democrazia dittatoriale la parte della gestione è fondamentale l'informatica dovrebbe essere dovrebbe essere andiamo avanti perché la SR è sicuramente un ottimo argomento però ce ne sono tanti altri questa è la parte che dicevi prima di bloccare appunto la parte office piuttosto che gli eseguibili c'era la slide quindi sei più preparato quindi benissimo e andare a bloccare la parte di texture surface reduction o sbloccarla decisamente anche con un pulsante quindi vogliamo dire c'è una certa semplicità nel capire cosa è bloccato cosa no e in modo tale perché lo dico come hai detto te prima se blocco troppo io e noi non vogliamo bloccare l'operatività dei nostri clienti vogliamo aiutarli a prevenire gli attacchi ok ma non bloccarli quindi capire come fasare bene le policy anche della parte texture face reduction è importante network protection evitare che eventualmente qualche tipologia di attacco provenga da ur malevoli piuttosto che addirittura anche per device tramite la parte edge quando non usano la nostra app perché a volte ci viene chiesto anche di poter fare questo tipo di blocchi in questa modalità funziona solo con edge l'abbiamo detto prima velocemente la parte web non è esattamente fine come possono essere altri prodotti giusto per fare l'accenno come può essere cloud app security però già una tipologia che mi permette di andare a bloccare lo vedete in questa in questa slide che ho preso come esempio bloccare quelli che possono essere siti conosciuti come malevoli piuttosto che siti collegati a situazioni non belle può essere direttamente bloccato immediatamente dal prodotto MDE fa tutto parte vedete la parte di content filtering che possiamo mettere blocca direttamente determinate tipologie di siti adult e così via si e tra l'altro dove non arriva il content filtering posso usare gli indicators quindi content filtering lavorano su categorie però se io conosco già dei siti che voglio bloccare un po' più mirati o conosciuti o meno conosciuti crea un indicator metto il blocco e basta il sito automaticamente viene bloccato quindi non agisce come un firewall però se la prendiamo un po' alla lontana può agire come un web content filtering vero e proprio con la particolarità che non devi installare niente sulla macchina e vale anche quando l'utente è fuori dal mio ambiente di lavoro perché quando sono in azienda il firewall fa benissimo il suo lavoro poi ci sono degli applicativi dei firewall che permettono di installare un agent sulla macchina e quindi che dialoga sempre via cloud per bloccare traffico non consentito però si sale di livello si sale di categorie si sale di complessità qui invece è io imposto quello che voglio bloccare sei dentro o fuori lui lo imposta sempre cambi computer non ti devo installare niente sei già pronto all'uso con Marco parlavamo del bello di endpoint manager che tu puoi spedire il computer a casa della persona lui deve mettere le credenziali già pronto così è già tutto operativo se gli dici che sui siti delle chat non ci può andare basta sui chat non ci va e basta questa parte viene fatta con una parte di threat intelligence già integrata nel prodotto che comunque si è già molto completa ma come dici tu se voglio aggiungere qualcosa di personalizzato e voglio proteggere bene lo posso proteggere singolarmente esattamente next generation protection un'altra delle cose che ci vengono spesso appunto definite è il cliente a casa l'utente a casa può montare che so un gioco e noi quello che vediamo è spesso che attraverso i giochi possono entrare situazioni offuscate che non vediamo i propri giochi che possono magari prendere il controllo del file system piuttosto che ecco andare a bloccare determinate situazioni bene io posso l'hai detto prima andare a bloccare con hash piuttosto che behavior monitoring o momentary scanning direttamente di ciò che accade lato memoria direttamente immediatamente quindi una protezione di ultima generazione i virus l'ho detto si sono evoluti per questo che defender ha dovuto evolversi da questo punto di vista e poter andare quindi a proteggere la realtà in ciò che succede mostrarcelo sia sulla console ma anche sulla parte macchina è fondamentale certo qua ne vedete a questo scopo un esempio di blocco di questo motivo che cosa è in grado di fare la parte di next generation quindi è in grado proprio di grazie anche alla potenza del cloud perché ricordiamoci che dietro alla parte defender front point c'è il fatto che la console ha una parte di threat intelligence threat expert e il motore cloud di intelligenza artificiale molto potente siamo in grado di fare controlli euristici molto avanzati da questo punto di vista vado un po' veloce su alcuni esempi anche perché se no dovremmo stare per un bel po' di tempo ma appunto l'idea è che riusciamo a poter bloccare quando il malware arriva eventualmente detonando ciò che succede prima che possa appunto arrivare a fare danni la parte di via via run monitoring controlla in tempo reale la parte file la parte registri la parte processi la parte networking anche in maniera assolutamente euristica e quindi di correlazione eventualmente abbiamo poi anche la sandbox che è in grado di capire facendo detonare la situazione se qualche cosa accade certo e ne parlavi prima vabbè la riprendiamo adesso la tamper protection è una modalità che può essere abilitata in diverse situazioni ne abbiamo accennato prima di fondamentale importanza fa parte del national protection per appunto bloccare come detection and response quando qualcosa accade abbiamo tutta la parte integrata nel prodotto anche di protezione della parte firmware e hardware purtroppo abbiamo visto nascere alcuni dispositivi virus che vanno a iniettare qualcosa prima che la macchina parte direttamente nel bioswafie ecco poter proteggere sia sui client sia su anche su eventualmente sui server dove magari c'è un server di visualizzazione e questa parte è integrata direttamente nel prodotto ed è ed è tuttavia importante noi stiamo dicendo sempre di più ai nostri clienti andate verso ad esempio multifactor authentication certo la password ad oggi non è più un sistema sicuro diciamolo qua a tutti per essere sicuri ad oggi ci vuole multifactor bene multifactor io non uso più la password un po' accendo il mio device accendo il mio device e come lo accendo riconosce il mio viso pensiamo al fatto se non avessi una protezione del mio device wifi che quel l'hacker ha iniettato qualcosa a wifi prima che riconosce me beh in quel momento potrebbe avere accesso in qualche modo al device quindi protezione del device in hardware è parte fondamentale e tra l'altro è una direzione che Microsoft sta prendendo basta pensare a Pluton dove si cerca di rendere i chip sempre più interattivi e che dialogano con il cloud per avere qualcosa di sempre stabile sicuro perché appunto come hai detto tu magari a me e te non voglio usare un francesismo romano non ci si fidano più di tanto però in scenari un po' più sensibili dove bancario finanziario sanitario cioè dove ci sono governativo dove insomma prendere possesso di un computer di un utente potrebbe essere tanta roba questa cosa diventa fondamentale quindi rendere sicuro l'hardware dal momento in cui si pigia il bottone è fondamentale per dare continuità di sicurezza e non a caso anche i server hanno iniziato a virare col TPM a bordo perché questa sensibilità sempre più forte sulla security ormai è diventata mandatoria diciamolo forte la password ad oggi è un sistema che la password semplice si trova facilmente la mia hash di password semplice è uguale alla tua hash ma anche comunque password complicate esistono sistemi di brute force attack dove e allora cosa fare multifactor però la multifactor authentication deve essere un sistema che rompe le scatole lasciami dire ma deve essere un sistema facile ad esempio il law for business col viso ma anche col pin perché questa è una cosa che a volte non è conosciuta aiuta molto a fare multifactor però il mio device deve essere sicuro deve partire in maniera sicura e quindi protezione dell'hardware e del wafing assolutamente assolutamente sì endpoint protection and response l'ADR ecco una delle parti veramente molto fondamentali riguardanti questa parte è che può provocare tanti mal di pancia nei clienti proprio quando l'hacker arriva e ha preso magari la mia password però cosa vuole se ne fa della mia password spesso vuole fare una scansione del mio sistema per fare un movimento laterale e prendere il controllo prendere il controllo vuol dire poi fare una privilege escalation magari capendo se qualche admin si è già collegato alla mia macchina beh una volta che fa la privilege escalation da lì lui vuole le credenziali di un amministratore di dominio per fare cosa beh nella più cattiva delle situazioni bloccare il sistema la più facile che si vede più spesso è critico il contenuto del server e chiedo un riscatto ecco che questi mal di pancia possono essere affrontati in maniera importante grazie appunto alla parte DR la parte DR permette proprio di prendere ciò che sta capitando correlarlo attraverso vari sistemi ombordati sulla macchina e capire che cosa sta accadendo e come possiamo andare a rispondere quindi indagare sull'incidente non vedete un esempio in questa slide in modo tale da capire scendere e investigare su cosa sta capitando e cosa sta succedendo e l'ADR è assolutamente una parte fondamentale di fondamentale importanza per quanto riguarda il prodotto Defender Forempoint Defender ATP che come hai detto te è per fortuna rimasto questo un po' come dove altri prodotti hanno cambiato nome però diciamo che adesso possiamo definire uno classico Defender esatto non sbagli mai Defender 365 ormai non sbagli adesso quando vuoi difenderti cosa usi? Defender anche perché tu prima parlavi della questione del movimento laterale perché un altro è dei bruttissimi vizi che hanno le piccole realtà o comunque chi non sta attento alla sicurezza è usare le credenziali dell'enterprise admin come utenza amministrativa anche sui computer senza sapere che queste credenziali vanno a finire sulla macchina finiscono nel credential manager rimane l'hash rimane l'hash che vi che piacciono i ransomware sono capaci di fare una sfiltrazione di queste credenziali in un modo devastante ne parlavo con una persona che lavora in un vendor di backup ha detto che ormai come sono scritti i ransomware sono una cosa devastante sono piccoli ma hanno un codice dietro ottimizzato che è capace di fare il mondo e prevedono 10.000 milioni di variabili per capire che software c'è cosa devono fare addirittura quelli di ultima generazione leggono dal tuo outlook se sei out of office in base a quello fare dei comportamenti questo per dire che nel momento in cui io faccio un movimento laterale che quindi faccio le sfiltrazioni poi muovermi lateralmente su tutti quanti i server è facilissimo e più vado in alto con le credenziali e più danni faccio io non dico di di non essere di avere delle credenziali quasi ad hoc per il per il local admin dei vari client l'apps sarebbe bravissimo ci stavo arrivando sarebbe in teoria il mandatorio per però quantomeno non avere non usare i credenziali di enterprise admin l'apps è gratuito perché non usarlo l'apps velocemente lo spieghiamo l'apps è un plugin che si installa dentro i client da windows 7 senza problemi quindi si può usare anche su computer più vecchi che serve per avere un subset di credenziali che si genera ogni x tempo che definite voi via group policy di quella macchina quindi ogni macchina ha il suo utente amministrativo con la sua password dalla console di ad io vedo direttamente quelle che sono le credenziali faccio copia e incolla mi loggo dopo 15 giorni dopo un giorno lo scelgo io la password si rigenera il vantaggio qual è? che ogni computer ha la sua password diversa e quindi in quel modo già distruggo il movimento laterale perché se io uso sempre l'amministratore locale automaticamente per fare installazioni di software sono a posto perché poi quello è alla fine fine nelle security base succede che l'hacker ne prende una quella è uguale dappertutto le ha presi tutti quindi è accreditato ovunque peggio se prende le credenziali di un amministratore perché poi sale fa addirittura una gpo e l'abbiamo visto però può capitare e quindi è peggio però ecco il movimento laterale con una stessa utente e il stesso appasso dappertutto usiamo l'app che è meglio sarebbe perché è quello un grandissimo desiderato però sì ad oggi i ransomware fanno questo tipo questa tipologia di tacchi bene l'EDR ci aiuta assolutamente a poter bloccare con l'EDR in black mode queste situazioni e quindi andare a bloccare sul nascere questo tipo di situazioni e la parte DR non troviamo solo la parte di blocco troviamo anche la parte di ricerca degli incidenti troviamo anche la parte di live response perché può capitare ad esempio che la macchina sta reagendo non in maniera corretta non so cosa succede io posso live response prendere il pacchetto farlo detonare e capire ad esempio cosa succede ti faccio una domanda al volo che ci hanno fatto bene la SR nella business premium sì ad oggi è mancante della parte di reportistica sì anche se sì bisogna vedere perché sulle 5 c'è l'advanced hunting esatto perché diciamo che nella business premium è stato introdotto il defender for business esatto che si pone a metà tra la P1 e la P2 reportistica in che senso adesso poi chiediamo un attimino il dettaglio della reportistica in che senso e da lì poi rispondiamo se è il roadmap o meno però magari adesso lo chiediamo se ce lo chiedono nel frattempo ma ti lascio alle tue slide così intanto dopo ci devono dare ci devono completare la domanda al volo al volo come dicevo prima la SR può bloccare eventualmente qualcosa che non è corretto come faccio a capire se è bloccato beh sul client me lo dice immediatamente cosa è bloccato ma comunque anche sulla console se qualcosa è bloccato nella timeline dell'incidente lo vedo quindi se il report è poter estrarre qualcosa di blocco la parte di reportistica sotto esiste però dopo magari chiediamo nel dettaglio la risposta e vediamo e uno proprio di queste cose era il triage investigation che sto mostrando proprio in questo momento in questa slide dove e ci hanno anticipato e ci hanno proprio anticipato dove a seconda di ciò che accade io vado a vederlo nella timeline posso rispondere capire assegnare questo elemento piuttosto che agire direttamente sul device che ha fatto l'operazione ed eventualmente tutte queste cose sono poi eventualmente esportabili ho portato esempi proprio delle console proprio perché insomma vogliamo essere operativi più demo che dimostrativi e quindi vedete proprio alcuni esempi vivi di situazioni che sono ahimè accadute eh sì perché questi sono cattori schermo di scenari reali che ovviamente abbiamo fuscato i clienti però sì quindi l'advanced hunting può rispondere alla richiesta di capire cosa è successo eventualmente esportarlo in un excel piuttosto che in un report quindi avete a disposizione sotto tutta la parte di custo query per poter andare alla ricerca dell'ultimo device che il contatto ha avuto dell'ultimo virus che è entrato dell'ultima SR che è stata bloccata questo può assolutamente aiutare dicevo prima live response non so cosa sta capitando su una macchina ecco che trovate che cosa sta succedendo posso collegarvi lo vedete molto velocemente e capire eventualmente catturare il pacchetto per farlo detonare ok anche perché possiamo diciamo una cosa molto utile del live response che è quella del io posso io posso bloccare la macchina isolarla dal networking e quindi fare in modo che non abbia più accesso a nulla ma la macchina continua a dialogare con md con md posso accedere in live response posso entrare dentro dentro la macchina lanciare una serie di comandi capire che cosa sta succedendo e fare attività catturare il pacchetto eventualmente catturare del file che mi interessa poterlo eventualmente prendere per farlo detonare insomma ho diverse possibilità lanciare eventualmente scansione scansione script che posso prendere da un repository che sempre il client può andare può andare a leggere nel caso abbia detto ok io voglio creare uno script che fa questa operazione una specie di pulizia adesso capirà anche che cosa succede DLL injection che secondo lui è corretta che non dovrebbe farlo fammi vedere che vediamo un live response però intanto ti isolo il device perché secondo noi potrebbe non essere una funzionalità corretta farlo e purtroppo lo dicevo prima si vede in alcune applicazioni magari vecchio stile questa situazione bene con il live response vado a vedere esattamente cosa succede ma ragazzi si vede che conosci altrettanto bene ci provo threat analytics è proprio assolutamente in grado di aiutarci con la parte di threat intelligence già presente a capire alcune cose che sono già successe e magari se alcune cose sono state evidenziate come maggiori threat adesso disponibili sono disponibili ahimè che stanno avvenendo disponibili brutto però alcuni threat che stanno avvenendo se sono avvenuti anche nella mia realtà e quindi ce li mostra immediatamente l'abbiamo detto prima andiamo un po' veloce perché ahimè il tempo è sempre poco automatic investigation remediation spesso appunto arriva l'alert e non so cosa fare piuttosto che magari è notte bene la parte di AR mi aiuta proprio a capire cosa è successo quando è successo e se eventualmente qualcosa si ripete poter minimizzare lavorare H24 per poter proteggere i nostri sistemi in maniera automatica l'abbiamo detto prima che è la famosa impostazione che dicevamo prima si può scegliere la tipologia di sistema operativo gruppi di macchine dove dire ok voglio andare a fare una full remediation quindi se succede qualcosa tu agisci esatto può essere noi di default la mettiamo mandatoria full remediation su tutti esatto può essere uno qualche cosa che hai visto di malevola ma potrebbe essere lasciami dire anche quello che hai detto prima ho un'applicazione che è nata dieci anni fa che comunque deve fare una terminata cosa mi assumo la responsabilità di dire per me quella è falso positivo ecco l'automatic investigation remediation dice ok mettila lì occorre ben capire questa parte però può capitare però appunto come hai detto tu magari la prima volta lo blocca poi io dopo gli dico che è un falso positivo lui capisce che deve poi eseguirla però intanto ha fatto il suo corso d'opera perché se agisco paradossalmente all'inverso rischio di far passare tutto e poi mi devo mettere a bloccare che è molto più complicato fra l'altro la parte di automated investigation ha la sua console dedicata quindi voi siete sempre in grado di poter vedere quando è successo qualche cosa e cosa automaticamente ha prodotto questa situazione perché magari sì ribadisco ci sono fasi positivi e non va bene che noi blocchiamo il design abbiamo la parte di investigation graph che può magari a volte sembrare stupida ma può essere interessante per capire esattamente le cose cominciate e come sì è grafica però anche graficamente capire magari dove è iniziato un malware qual è l'entità coinvolta in questa situazione può essere carino questo richiama molto anche la linea di Sentinel esatto nella parte di analisi del trend assolutamente richiama altri nostri prodotti come Sentinel ma anche come Defender for Cloud dalla parte di network map dove riusciamo a capire cosa sta succedendo abbiamo Microsoft 3Texpert sembra anche qui una cosa così aggiunta ma in realtà tutti coloro che hanno un contratto di supporto possono aprire una chiamata di supporto per qualsiasi prodotto bene qui avete una linea dedicata di persone a cui potete aprire le chiamate per quanto riguarda alcuni pain avete visto qualcosa e non vi ritorna avete visto qualcosa di nuovo vi capita di avete bisogno comunque del supporto avete bisogno di Silvio c'è sempre però comunque sia esiste la possibilità di poter consultare dei 3Texpert sempre disponibili che vi aiutano a capire quando è successo qualcosa quindi è come poter elevare la chiamata a supporto Microsoft dedicata però alla parte di 3Texpert che sta avvenendo quindi avete un colloquio immediato dedicato a chi è in grado di aiutarvi on demand per classificare una determinata situazione ed è assolutamente H24 come in altri esempi sto portando esempi di attacchi avvenuti ecco lo dicevo prima sembra sempre di vantare se stessi però insomma di tipologia di attacchi Defender Frame Point ne vede tantissimi tantissimi che a volte altri prodotti non trovano ma cerca sempre di spiegare ciò che accade cosa possiamo fare per poter bloccare e rimediare ah poi certo se un utente pensa ah non lo capisco cioè l'informatica è anche fatta un po' o la sai o la studi o poi la lasci fare a chi la sa fare se no è meglio che non ci metti becco non è che non lo capisco il prodotto è complicato però ti sono tutti complicati o lo conosci o è meglio che ti metti da parte quindi diciamo che ad oggi vediamo ancora dove la parte di security team e a volte la parte di IT team in qualche modo insomma ancora non si parlano in maniera corretta beh in realtà l'idea di Defender Frame Point è portare quindi la gestione della sicurezza sempre più facile sempre più centralizzata sempre più monitorata sempre più in aiuto alle T è un po' un nostro un nostro compito ecco e abbiamo l'hai detto sempre inizialmente la parte di gestione e anche parte di gestione che noi possiamo avere l'abbiamo visto la sessione stamattina come può essere gestito in maniera efficace efficiente Defender Frame Point abbiamo le GPO abbiamo SCCM e abbiamo Endpoint Manager che avete visto stamattina con l'amico Marco e poi l'integrazione con Sentinel reportistica bravo esatto io posso portare gratuitamente fra l'altro il log di Defender Frame Point gli alert di Defender Frame Point verso Sentinel da lì Sentinel nel momento in cui vede un incidente mi rimanda immediatamente l'integrazione alla console Defender Frame Point per investigarlo quindi assolutamente integrazione con quello che è il nostro SCM report c'era stata la domanda ecco vedete proprio un report legato alla parte di ASR quindi vedremo magari di capire se la versione business è mancante questo lo possiamo approfondire eventualmente perché in effetti a meno risulta però lo approfondiamo non c'è problema si poi cambiamo magari nel meglio dettaglio abbiamo ancora 5 minuti però intanto abbiamo una domanda che ci è stata fatta si questa era la parte di reportistica mostravo scusami Silvio verso Sentinel la domanda riguarda i dispositivi agentless o comunque allora abbiamo Defender 480 abbiamo la protezione nel mondo IoT Defender 4andpoint permette anche di fare la network discovery permette di avere come dire un quadro più sicuro permette di fare la scansione dei dispositivi IoT se poi voglio proteggere i dispositivi IoT ho una soluzione che proprio prende il nome di Defender for IoT qual è poi la strategia migliore da questo punto di vista nel senso dispositivi agentless ce ne sono tanti e sono quelli che ormai stanno iniziando a prendere sempre più piede ok perché sai dati dati da collezionare piccoli sensori che comunque sono fonti di attacco sì allora velocemente perché poi infatti guardavo la domanda cercavo di Defender for IoT è il prodotto che appunto hai detto può difendere la parte IoT i dispositivi agentless cioè senza Defender poter proteggere un dispositivo noi anche sui mobile come volevo far vedere tra poco abbiamo bisogno di montare Defender per poterlo proteggere non ci sono dubbi e tutto quello che possiamo proteggere intorno dopo va a diventare protetto rispetto a qualcosa che MDE non ha quindi ti direi in linea di massima MDE va montato sempre sia su un device mobile che su un server che su un client che su un IoT dove abbiamo Defender for IoT tutto quello che poi intorno è protetto nell'eventualità arrivi un device che non ha Defender comunque quel device viene ad essere bloccato perché non ce l'ha quindi diciamo che nel concetto di agentless almeno per adesso sicuramente Defender for IoT poi dipende di che cosa stiamo parlando nel senso se è un dispositivo IoT perché networking inteso come lo switch l'access point già escono fuori da questo paradigma perché non c'entra niente di questo prodotto parliamo velocemente in qualche minuto di qualcos'altro da mostrare allora vogliamo vedere la console facciamo vedere velocemente la console poi volevo mostrare l'integrazione con Sentry la volevo mostrare che è multipiattaforma certo quindi Mac Linux Android Linux tra l'altro sta prendendo sempre più piede adesso anche il conditional access supporta Linux iOS quindi sembra che tutto è protetto e tutto corretto anche nei dispositivi mobile ma è importante portarsi a proteggere quindi in tutta la parte dei dispositivi Defender for Business assolutamente una parte integrata importante da poter vedere è una grande una gran cosa la presenza di Defender volevo lasciarvi anche la possibilità di provarlo il prodotto quindi la parte di sign up per la trial non ci sono problemi poi a seguire col collega vedrete la parte parliamo di soldi vediamo velocemente la console è vero che non sì vediamo velocemente velocemente la console mostriamo la console e così cerchiamo di dare anche un po' una forma e una sostanza alla piattaforma nel frattempo io mi ero collegato stiamo preparando proprio in tempo reale un attimo fare login esatto però volevo mostrare la semplicità certo dici quando sei pronto che sì proprio non ria mai che facciamo vedere cose strane no ho bisogno di un altro minuto un minuto è tanto eh lo so un minuto siamo non l'avevo preparato però però è interessante vederle quindi dammi 30 secondi giuro ragazzi però merita giusto per capire perché avete visto tante cose statiche riprese però può servire poter capire come e con che semplicità avete a disposizione una serie di strumenti nella console multifactor multifactor sempre sempre assolutamente multifactor che sia un ambiente di demo che sia di produzione multifactor authentication fondamentale mi raccomando ad oggi la password non è più un sistema sufficientemente protetto ok se vuoi ci siamo ci siamo volevo far vedere allora è un ambiente demo così che ho preparato allo scopo quindi non è ovviamente molto pieno di situazioni non posso ovviamente mostrare in mente di nostri clienti ma volevo mostrare la semplicità di questa console dove come sempre in ambito microsoft trovate sulla sinistra quelli che sono i campi a favore del fatto di immediatamente noi vogliamo vedere quelli che sono gli incidenti che sta capitando gli alert che stanno succedendo nella schermata iniziale pronti via ho la parte di secu score come sono messo a sicurezza che risultato ho sulla sicurezza dei miei device ci sono incidenti attivi in questo momento ci sono threat attivi ovviamente io sono bravo il mio ambiente è pulito però non sempre così quindi quello che sono anche le action pending che devono eventualmente succedere quello che può essere la parte integrazione nella schermata iniziale ma sulla parte sinistra ecco lo dico perché ne vado orgoglioso una volta avevamo 4 o 5 console dovevo capire dove andare adesso ricordatevi segnatevi security.microsoft.com ho a disposizione la console per gestione dei device la console per gestione della parte office quindi la console di office la console della gestione dell'identità la console per la gestione anche della parte endpoint quindi ho tutto perché qua sotto sia ho la parte di gestione device o anche in parte la gestione della parte settings ho visto che abbiamo quasi già sbordato e quindi stanno andando un po' di corsa in realtà abbiamo sbordato perché non ero preparato per farvi vedere l'ambiente demo però abbiamo fatto vedere la console velocemente anche per mostrare il fatto che è una per gestire tutto esatto endpoint posta identity integrazioni e tutto quello che è è un solo posto che ormai ha preso il nome di Microsoft 365 Defender esatto tutto quanto side by side con Azure Sentinel senza il quale non riusciamo a fare tutta la parte di protezione in maniera corretta grazie ancora Grazie a te è stato un piacere siamo riusciti comunque a mostrare tante cose ma ce l'avevo fatta esatto